L'amidea, mi è successo qualcosa? No. Non è successo niente. E che sono un passo da apprendermi tutto. Ti rendi conto quello che vuol dire per noi, per la nostra famiglia, eh? Ce l'abbiamo fatta. Io e te non siamo più niente. Guarda che se mi denunci non provini solo me, ma distruggi la vita dei bambini. Non l'hai capito. Io voglio salvarti. Ti ricordi quello che mi dicevi? Fai tutto quello che devi fare per essere felice. Sì, ma io non intendevo questo. Dice di racconti un sacco di stronzate, li sei chiusi in un convento in mezzo alle suore e dici le preghiere. Ma chi vuoi salvare, eh? Guarda che questo è quello che hai sempre voluto. No, non è così. No. Alice, Alice, per favore. Alice. Alice. No!